a scuola di passione qui al knosfap di fossano con ludovico nella docente di meccanica dell'auto e del motoveicolo partiamo con la puntata che riguarda il motore a due tempi e abbiamo preso una sorta di icona del motore a due tempi e della storia che gamma rg 500 non è solo forse il più interessante motore due tempi prodotto ma è stato anche quello oggetto di un'evoluzione enorme il mondo della 500 la prima moto veramente leggera potente che introduceva una tecnologia veramente interessante parliamo di questa moto ludovico che è uno dei più grandi esperti al mondo sicuramente più grande esperto in italia allora innanzitutto parliamo di un gamma 500 è stata la regina delle moto stradali e all'epoca parliamo del 1986 è uscita in commercio e ovviamente ha fatto subito scalpore perché era veramente una moto eccezionale un motore stupendo un quattro cilindri in quadro da 125 cc di cilindrata l'uno è una moto che ha un'immissione di aspirazione a disco rotante quindi parliamo di un motore che anche a livello sonoro ti dà veramente un appagamento bellissimo quindi ha una sonorità che rispetto a tante altre moto lamellari non è paragonabile il sibilo del disco rotante si sempre si sente veramente tantissimo e a livello di prestazioni è un motore che ti dà veramente tanto parliamo di circa 105 108 cavalli alla ruota su questo modello da pista parliamo di circa 80 cavalli sulla versione originale e con le espansioni passiamo già circa 90 cavalli si parla 90 cavalli alla ruota ovviamente si parte dal dalla stradale dove abbiamo tanti piccoli difetti dell'epoca che possono essere i primi ad esempio gli pneumatici i cerchi gli impianti frenanti le sospensioni ad esempio in questo caso tutti rivoluzionati tutti ammodernati e modificati per avere la massima prestazione in questo caso abbiamo una moto che è stata rivisitata completamente anche a livello di geometrie e quindi a livello di ciclistica il forcellone è un forcellone scatolato fatto da golinelli un artista di imola un grandissimo telaista molto conosciuto nel mondo delle competizioni parliamo di pedane regolabili quindi possibilità di regolare bene la nostra posizione alla guida parliamo di forcelle già stelli rovesciati con delle piastre ricavate dal pieno che ci danno tantissima rigidità torsionale in frenata parliamo di pinze radiali quindi parliamo già di stampo recente e che anche esse ci danno tantissima rigidità in frenata un impianto frenante quindi flottante full floating in questo caso di scacciati molto spesso da 3 10 per 5 e mezzo di spessore che quindi ci dà tantissima stabilità e tantissimo potere frenante il tutto abbinato a dei cerchi in magnesio che ci danno leggerezza abbinato a ciò una preparazione buona del motore e delle buone espansioni che fanno cantare veramente e ci danno veramente un sound stupendo alla nostra moto ricordiamo appunto che questa è un rg 500 non ovviamente di serie come ha spiegato bene dovico in particolare resta di serie tutta la zona del telaio il monoblocco la zona dei carburatori tornando al modello standard ricordiamo che abbiamo quattro carburatori sui due lati con emissione laterale all'interno dei carter all'interno di questi carter motori abbiamo i dischi rotanti quindi quattro carburatori quattro dischi rotanti due alberi motori e il motore quadro la sofisticatezza tecnica di questo motore era proprio questa che i motori sono i cilindri hanno tutte fasature identiche e hanno tutti una disposizione molto simmetrica differenza di altri motori come l' rd 500 questo telaio motore monoblocco di serie tutto il resto è stato modificato qui vediamo un codino di derivazione ducati 916 un forcellone bellissimo e delle piastre e una forcella anteriore veramente tecnologiche di ultima generazione cosa ci piace raccontare di questa moto insieme a ludovico con ella ecco questa è una moto che di serie aveva 80 cavalli circa assolutamente sì e il peso quanto era di serie parliamo di circa 165 kg con una preparazione di questo tipo ricordiamo non ha affari e frecce ma anche tanti materiali pregiati stai arrivato sotto i 136 kg 136 kg sotto i 140 ricordiamo che le 500 due tempi ufficiali avevano prima 115 kg e poi arrivarono dopo il l'ingrassamento dal regolamento a 130 kg tutti si lamentavano che 130 kg era troppo pesante mi ricordo che svans disse che 130 kg le moto non frenavano più perché erano abituati con 115 115 cavalli per 115 kg per quelle moto 500 erano veramente veramente pochi qui siamo a 136 una moto di una leggerezza impressionante soprattutto se scendiamo dalla moto sportiva di oggi da circa 200 kg saliamo su questa inserimento il movimento in curva è enormemente migliore una bicicletta una sorta di bicicletta piastre di grandissimo diametro ricordiamo avevano dei problemi di flessione delle forcelle e anche dei problemi di stabilità di frenata che in questo caso sono tutti risolti con queste piastre e forcelle di grandissimo diametro dalla grande rigida e con questo forcellone decisamente diverso da quello di serie e con una rigidezza torsionale enormemente superiore a quello di serie passiamo a vedere il resto della moto vediamo l'altro lato ovviamente tutto simmetrico due scarichi sulla destra uno basso e uno alto due scarichi a sinistra anche qui uno basso e uno alto qui abbiamo l'avviamento abbiamo il lato frizione che in questo caso resta una frizione di serie diciamo non è ancora una frizione a secco questa è ancora una frizione bagno d'olio che è uno step superiore ma parliamo a chi ha una gamma di serie quindi questo telaio questo motore totalmente di serie ecco questo motore ha una grande potenzialità una volta che il banco abbiamo detto i due alberi come detto prima sono stabili si può procedere a una serie di miglioramenti facili e molto efficaci che sono le feste i carburatori certo prima di tutto vabbè partiamo da un discorso di un bel setup generale lo facciamo respirare bene quindi andiamo a bilanciare benissimo i carburatori e poi andiamo a lavorare sui rapporti di compressione andiamo a lavorare sullo squish tipo il primo parametro che è veramente ridicolo dell'originale uno squish che è 1.4 1.5 quindi parliamo di millimetri 1.4 1.5 mm che a livello prestazionale ci dà veramente poca prestazione andandolo a modificare quindi andando a lavorare sulle guarnizioni della testa noi riusciamo ad ottenere uno squish intorno all'1.1 1.2 e questo ci aumenta tantissimo le prestazioni del motore quindi e soprattutto la coppia erogata dal motore questo si fa in due modi lavorando sia sulla testa sia sulle guarnizioni della testa certo in questo caso proprio sulla guarnizione fisica essendo una multistrato composta da uno strato morbido sagomato uno strato rigido in mezzo un altro strato morbido si vanno a togliere lo strato rigido e lo strato morbido sotto si lascia solo più uno strato morbido sagomato e così si va a compensare lo spessore quindi lo squish eccessivo andando a mettere poi una guarnizione che va a pareggiare le altezze della travaseria e quindi si va a fare un notevole upgrade del motore andando solo ed esclusivamente a lavorare sulla guarnizione della testa e la guarnizione di base andando così a rivedere le altezze delle travaserie per semplificare il lavoro in pratica abbiamo il motore togliamo le carenature smontiamo i carburatori certo smontati i carburatori realesiamo i carburatori al tornio certo viene aumentato semplicemente il foro interno da 28 il venturi al condotto lo portiamo da 28 mm che standard lo portiamo a 30,5 mm che è il massimo ottenibile da quel carburatore quindi i carburatori realesati a 30 e mezzo poi smontiamo le quattro le teste sono due blocchi le teste lavoriamo puliamo le teste facciamo uno squish certo facciamo tutti i controlli rimontiamo le teste poi volendo potremmo intervenire potremmo smontare una volta abbiamo smontato i carburatori possiamo smontare anche i dischi rotanti che sono nel carter subito sotto i carburatori quindi si toglie il filtro si tolgono i carburatori si lavorano una volta che abbiamo la vista del carter togliamo i due dischi rotanti e a quel punto lavoriamo i dischi rotanti che anche quelli possono essere realizzati ricordiamo che in questo caso il disco rotante fa un lavoro che è simile a quello che fa l'albero a camme sui motori quattro tempi oppure se prendiamo un classico la vespa l'ape ad esempio che avevano il avevano l'albero motore che aveva un apertura sulla spalla e che andava a gestire l'ingresso della miscela del misto aria e benzina in questo caso essendo vincolato tramite un mille righe l'albero motore ha una calettatura presente sul disco ovviamente il disco segue sempre il nostro albero motore e di conseguenza anche ad altissimi giri non avremo il problema dello sfarfallamento classico tipo delle lamelle che è un grosso problema perché la lamella ha un fino a un tot di giri va bene oltre quel tot di giri comincia a sfarfallare in questo caso ricordiamo il disco rotante altro non è che un disco con un foro e solo quando il foro è allineato al carburatore passa l'aria gira insieme all'albero motore quando il foro passa davanti al primo motore entra l'aria quando il foro non passa davanti largo motore l'aria dal carburatore non può entrare questo è un vantaggio per il riempimento del carter motore si riempie il carter quando c'è depressione dal cilindro e quindi aspira da quel foro quando il foro si chiude il pistone va giù quando il pistone va giù l'aria non può più andare al contrario verso il carburatore passa è forzata a passare nei travasi e va sopra il cielo del pistone e poi si ripete il ciclo ogni volta questo effetto unidirezionale che fanno le lamelle nei motori lamellari in questo caso lo fa il disco la unidirezionalità è data dall'allineamento tra il foro e il carburatore quindi questo è il concetto base poi nella pratica i dischi rotanti non sono dei fori semplici ma diventano degli oggetti fluidinamici piuttosto complicati che andiamo a vedere in dettaglio con ludovico ecco qui troviamo un disco rotante di serie semplicemente lucidato e un disco rotante lavorato ecco quando il carburatore si trova in questa zona il foro l'aria passa quando il carburatore si trova in questa posizione non passa più l'aria abbiamo un'irezionalità si lavora questo carburatore ora ludovico ci spiegherà perché da così lo ha fatto diventare così certo ovviamente questa si chiama rifasatura del disco rotante ovviamente come si fasano i dischi rotanti si vanno a cambiare le geometrie di apertura e di chiusura quindi andando ad anticipare o a ritardare il nostro disco rotante e di conseguenza lui andrà così a aprire prima o chiudere dopo il nostro condotto di aspirazione e di conseguenza andrà a far entrare più o meno ben l'ho aperto quando in questa posizione quando ruota in questa posizione il condotto sarà chiuso quindi questo è condotto chiuso la sportante gira questo inizia ad aprirsi ecco vediamo qui inizia ad aprirsi si apre si apre questa è la massima apertura e rimane alla massima apertura per tutto questo arco di rotazione entra entra aria quando la parte opposta inizierà a salire ecco inizierà a richiudersi questa fase si chiude quando sarà chiuso il pistone potrà scendere e non buttare aria fuori da qui ma spararla all'interno di travasi ovviamente questo è il funzionamento di un disco rotante sta ovviamente qua possiamo vedere mettiamo un disco graduato e possiamo andare a vedere i nostri angoli di e le nostre fasi dei dischi rotanti come andiamo a vedere i nostri diagrammi dei nostri cilindri e fare le fasi di tutto il nostro motore ricordiamo che qui l'apertura reale è forse di ovviamente meno di 180 sì assolutamente un po meno di 180 sarà un 160 e questo qui è un po più chiuso possiamo dire che l'originale è un po più chiuso certo a un tempo un timing quindi non velo anticipato e dopo posticipato rispetto all'originale e cambia anche e cambia anche la forma ovviamente perché così invita di più il carburatore e il taglio di apertura e di chiusura della nostra luce questo è come funziona un disco rotante regola l'immissione nel cartel motore questo è un motore molto più avanzato che vedremo poi in dettaglio certo però andiamo a studiare invece le teste da una testa smontata da un motore fresco fresco quindi ancora sporca della dell'ermetico messo erroneamente ovviamente non andrebbe assolutamente messo su un motore passiamo a una testa originale lavorata quindi dalla quale vengono eliminate ovviamente le guarnizioni di testa originali vengono fatte queste cave per gli o-ring di conseguenza viene rivisitata la forma della nostra cupola emisferica e al tempo stesso così ci dà la possibilità di aprire il motore e revisionarlo a livello economico anche più vantaggioso perché qua cambiamo solo degli o-ring cosa che invece in questo caso dell'originale dobbiamo cambiare le guarnizioni perché sono a schiacciamento quindi ogni volta che ha quindi questo qui sarà o-ring diretto sì la compensazione della differenza poi la fai recuperando sulla base vado a lavorare sull'altezza ovviamente si usa il delle guarnizioni in questo caso eccole poste sul basamento più alte per riportare su e recuperare i millimetri persi sulla guarnizione di testa prendiamo delle basette queste qua taglio laser vengono realizzate in alluminio spessore un millimetro sul quale poi viene messa una guarnizione sotto e una guarnizione sopra e viene così creato un sandwich dalla tenuta ottimale senza il rischio di dover mettere una guarnizione in carta tanto spessa che poi c'è il rischio che mi scappa via ovviamente ovviamente viene da sé che quando io vado a generare tutte queste modifiche c'è il rischio qui il vantaggio come vedete c'è il scasso sull'aluminio per il posizionamento della o-ring interna alla camera di combustione quella esterna sul lato raffreddamento poi ce n'è un altro di o-ring un terzo che viene posto e creato lo scasso sulla valvola di scarico chiudiamo la valvola di scarico variabile si qua abbiamo una camera di addirittura una camera di compensazione molto grande perché riprende una grossa parte della testa vediamo che questa testa ha lavorato molto anche forse un po' male a volte vediamo un po' di detonazione su questa questa puntinatura che c'è qui sono evidenti segni di detonazione quindi una testa che forse era simile a sorella di questa a sto punto e ha lavorato in maniera errata gli stessi segni di detonazione forse si dovrebbero ritrovare anche sul pistone qua ad esempio ho portato un pistone sul quale troviamo segni di detonazione pesantissimi qua sono stati dovuti a uno squish ed è un rapporto di compressione completamente errati che hanno causato la distruzione completa del motore vediamo proprio dei crateri classico esempio di detonazione certo questo è uno step ottimo quindi voi avete un gamma 500 motore di serie alberi a posto pistoni a posto non si aprono neanche i cilindri si fa semplicemente step 1 carburatori step 2 teste se volete lo step 3 già un po' più avanzato fasatura come diceva poco fa Ludovico Conella qui abbiamo un esempio dei carburatori di cui parlavamo qui sono i carburatori realesati e questi sono i carburatori originali i originali hanno la valvola piatta montata i carburatori realesati a 30 e mezzo non hanno la valvola sono ancora da assemblare se guardiamo dietro se guardiamo dietro è ancora più evidente è molto più evidente la differenza questo è il carburatore a 28 e mezzo e questo è il carburatore a 28 e questo a 30 e mezzo ovviamente dimensione maggiore passaggio maggiore di benzina masciando però il Venturi e tutta la parte del convogliatore d'aria che vediamo qui originale quindi viene solo pulito ma tecnicamente è lo stesso quindi step 3 se volete i dischi lamellari in questo caso la moto passa da 80 a 85 cavalli può arrivare solo con i carburatori 5 cavalli si, su carburatori maggiorati maggiorati facciamo anche testa, scarichi e lamelle arriviamo a 100 arriviamo a circa 100 cavalli quindi 15 cavalli guadagnati con testa, lamelle, carburatori e scarichi ottimi scarichi che vediamo sui jolly moto ma non penso che ce ne siano tanti forse due, tre ci sono quelli che realizziamo noi su specifiche due o tre alternative esistono dove abbiamo guadagnato oltre 4 cavalli e mezzo rispetto a jolly moto però questi sono scarichi veramente molto particolari realizzati da una persona che si chiama Federico che è Federico Valmas Aiko che è uno specialista a livello mondiale di scarichi con lui e su Banco Prova abbiamo realizzato queste espansioni in materiali diversi quindi l'abbiamo Aiko a Roma mi sembra di ciampino li abbiamo realizzati sia in lamiera dolce che in acciaio Inos e anche in titanio dove abbiamo risparmiato veramente chili e chili e chili e che è stato lo step più evoluto sempre parlando di teste esiste anche lo step successivo alla versione originale con la guarnizione abbassata oppure all'originale riprofilata con la sede degli O-Ring che sono delle teste ricavate dal pieno queste qua le fa Garage Roca che è uno spagnolo si chiama ricordiamo il tecnico di Rins sì ex tecnico di Suzuki Rins questo è una calotta come le moto da corsa vere in cui la testa la camera di combustione viene realizzata indipendentemente anche in materiali diversi o elaborato diversamente rispetto alle teste e poi si avvita sulla testa anche tutte le moto AGP sono fatte così anche perché si può anche scegliere di avere una come si hanno varie candele nel kit si hanno anche varie calotte già pronte con vari squish e camere di combustione diverse a seconda anche del tracciato vogliamo più allungo, vogliamo più coppia cambiamo magari non solo la candela come si fa in alcuni casi ma cambiamo anche la camera di scoppio lasciando la testa originale quindi la testa è questa, la camera di scoppio viene avvitata e abbiamo dei cambi di scoppio intercambiabili con le calotte veramente una soluzione sopraffina da moto da corsa che permette di affinare al massimo le prestazioni e anche l'efficienza del motore in questo caso queste teste raccontaci un po' come vengono fatte e quali vantaggi portano ovviamente vabbè qua i passaggi dell'acqua sono stati maggiorati di conseguenza è stata ristudiata la fluido dinamica del raffreddamento quindi maggiorando e quindi migliorando così ottimizzando il raffreddamento dei gas dando così possibilità quindi come dicevamo prima di avere diversi profili e quindi cambiare le cupole e di conseguenza andare a variare sia squish che rapporti di compressione sono ricavate dal pieno, il materiale è un Ergal e un Avional ovviamente fatte con delle frese e dei torni a controllo numerico passando da questo livello di teste arriviamo a potenze più alte arrivando a potenze più alte le prime due cose da diciamo così migliorare sono quelle che riguardano la trasmissione in particolare il primario e il secondario quindi arriviamo al cambio, questo è un cambio da corsa un cambio di alte prestazioni in grado di resistere a potenze e coppie superiori generati da queste teste qua ovviamente gli alberi sono stati fatti integralmente dal nuovo tutti ricavati dal pieno ovviamente sono state migliorate ciò che era all'epoca tutte le boccole perché all'epoca si usavano delle boccole in ottone, bulinate qua no, siamo acciaio su acciaio oppure acciaio su cuscinetti ad aghi di conseguenza innesti anche code di rondine maggiorate quindi meno rischio che si spacchino gli innesti frontali anche perché comunque qua una volta fatti tutti i vari step arriviamo intorno ai 120 cavalli quindi parliamo di una potenza veramente... quasi doppia, agli 80 di serie arriviamo a 120 quindi è ovvio che tutto debba essere un po' maggiorato certamente, certamente